La visita a Scutari durante il giro di spezione compiuto in Albania dal ministro dell'educazione nazionale sua eccellenza Bottai per lo studio dei problemi della scuola albanese in collegamento con quelli della scuola italiana. A Durazzo il luogotenente generale sua eccellenza Iacomoni ha presenziato alla inaugurazione di una nuova moschea. Nel corso della manifestazione sono stati solennemente riaffermati i vincoli altissimi che uniscono la nazione albanese a quella italiana e sottolineati i particolari sentimenti di gratitudine della comunità musulmana per la saggia e illuminata politica islamica dell'Italia fascista. Grazie a tutti!